Con Michela Martinelli al termine della partita persa dal Tavagnacco contro la Juventus, una partita difficile, il Tavagnacco è rimasto probabilmente in partita solo un tempo e qualche minuto, poi dopo con il secondo gol della Juve le difficoltà sono... avete un po' mollato forse? Beh, oggi diciamo che non c'è stata la partita, noi abbiamo cercato di fare quello che potevamo, loro si meritano questo primo posto e si è visto sul campo, hanno un bel gioco, hanno una bella squadra, quindi hanno giocatori forti, quindi si meritano questo primo posto e poi vediamo chi vince tra loro il Brescia. Ecco, a proposito, secondo te, così a sensazione, chi potrebbe essere, se c'è un favorito tra le due squadre? Non lo so, perché sinceramente sono due belle squadre toste, compatte, hanno delle grandi individualità, quindi sinceramente non lo so, forse ai rigori vediamo chi vince. Ok, allora, ultima cosa, al di là della partita di oggi, comunque la stagione del Tavagnacco è sicuramente positiva, terzo posto per una squadra di provincia, quindi insomma tu che voto dai alla stagione della squadra? No, beh, per noi è stato un bellissimo anno, terzo posto forse neanche ci speravamo perché abbiamo avuto un sacco di nuove ragazze, giovani, che venivano da fuori il primo anno, quindi era un po' magari difficile all'inizio creare una bella squadra, e quindi niente, noi siamo contenti così, speravamo magari non qualcosa, non risultato così pesante, però va bene così insomma. Prima di salutarti, domanda di rito, quindi rivedremo Michela Martinelli anche all'inizio della prossima stagione? Eh sì.